Qual è l'opinione delle persone con sclerosi multipla riguardo l'utilizzo della telemedicina? L'abbiamo chiesto al professor Mario Alberto Battaglia che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento in cui è stato fatto il punto su un progetto che riguarda proprio l'utilizzo della telemedicina, un progetto che prende il nome di EcoSM che ha visto riuniti e collaborare insieme la Società Italiana di Neurologia, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, l'azienda farmaceutica Biogen e il centro studi ILHM. Professor Battaglia, secondo l'indagine che è stata presentata oggi qui durante l'evento la televisita è già piuttosto diffusa nei centri di sclerosi multipla italiani. Per i pazienti cosa rappresenta? Qual è il loro punto di vista riguardo questo modo nuovo di approcciarsi, di interagire con il medico? Nel passato, prima dell'era Covid, ci sono state molte occasioni, molti centri dove le persone erano comunque in contatto con gli strumenti disponibili con il medico, dagli strumenti più semplici a quelli più complessi. Ovviamente l'era Covid ha accelerato l'utilizzo di questi strumenti e anche la necessità di avere delle occasioni di confronto da remoto. Le persone hanno accettato questo e accettano la televisita, certo non come unica soluzione perché ci sono anche i momenti in cui è necessario confrontarsi di persona con il proprio medico, però è uno strumento importante soprattutto quando ci sono difficoltà, quando il centro è lontano e soprattutto la grande disponibilità dei medici, la grande professionalità rende possibile questo. Qualche volta è necessario il caregiver a fianco della persona e questo risolve forse una parte dei problemi quando c'è da testare qualche aspetto. Professore, a suo parere è un qualche cosa, una interazione che andrà aumentando nel corso del tempo, guardando un po' avanti? Sicuramente andrà aumentando, uno, per le difficoltà dei centri che hanno tanti pazienti da seguire e due perché questa modalità verrà applicata anche più allargata ad altri approcci, cioè non solo la televisita del neurologo ma magari anche il confronto con il fisiatra, la tele-riabilitazione, il confronto con lo psicologo, quindi la tele-psicologia, quindi ci sono tante sperimentazioni anche condotte da noi che stanno dimostrando la validità di tutto questo. Senta, professore, per una piena applicazione della telemedicina come parte integrante degli strumenti di cura ci sono tutta una serie di difficoltà da superare, di ordine, diciamo così, burocratico, di ordine culturale soprattutto e con l'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, a suo parere può fare qualche cosa per aiutare soprattutto i pazienti a superare queste difficoltà. L'Associazione affianca le sperimentazioni che oggi sono in corso, però si può fare molto per essere presenti ai tavoli istituzionali, sia quelli nazionali sia quelli locali, come lo siamo stati per il PDTA di riferimento Agenas, i PDTA regionali, per trovare quelle soluzioni che sono necessarie. Sicuramente AISM può insistere perché i centri abbiano le dotazioni tecnologiche adeguate e può intervenire anche per la formazione delle persone, delle persone con sclerosi multipla, dei pazienti e dei caregiver per applicare queste nuove tecnologie.